Prosegue il cammino in Coppa Emilia per il Sant'Arcangelo Calcio Femminile che in pausa dal campionato cala al trista i danni di una rimaneggiata onda pesarese che scende in campo con dieci pedini a causa delle assenze e Capitano Oliva in versione portiera, cui va al merito di essere compagine caparbia e volitiva nonostante le difficoltà di sorta. Pronti via le ospiti si vedono dire no proprio da Oliva. All'ottavo viene concesso un generoso rigore alle gialloblu, a realizzarlo è Cabrera. Al ventesimo le ospiti raddoppiano da calcio d'angolo con il tapine di Calia che festeggia dedicando il gol alla sorella gemella a bordo campo. Nei minuti successivi è nuovamente Calia a cercare la via del gol colpendo però l'esterno della rete. Al ventisettesimo il Sant'Arcangelo Femminile cala al triscono Micini che di testa buca il sacco. Diverse occasioni per le ospiti nel corso del match. Brava Oliva ad opporsi e qualche imprecisione sottoporta chiudono la contesa sullo 3-0 per le ospiti. Prossimo impegno per le gialloblu domenica 11 dicembre contro la femminile Riccione calcio Stadio Mazzola.